Chiamala a frate, solo per curiosità Una lucetta, chiamala Chi potete chiamala? A me ti chiedo da voi Chiedo una calpazza Chi dici? Ti dà la folla Chi dici? 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 Chiamala la casa Chi dici? Chi dici? Chiamala la bomba Complazione del paznato Ci vanno in giro Lamenti Vi f Graph dru Il pazzo Chi dici? Eh siきます tu vuoi srubi in diretto dovete vi ballare bravo che ha fatto? che ha fatto? c'è il problema oh vai da piedi c'è il problema non manco più da qui c'è no? ma questo è il mio caldo tranquilli arrivo il pallone a re non ti sento neanche urla nel campo perché arrivo il pallone a re non fa niente allora non è perdita si ma non è arrivato tanto avanti no a me attenzione uomo punto left che stanno facendo? 1,3 2,5 1,4 1,4 4,5 5,4 3,4 5,4 7,7 got a tre 6,7 7,8 6,8 è un minuto è un minuto cosa hai fatto? è un minuto è un minuto buonanotte 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 è lì è lì è dei speller hai dubato qui qua l'accento è uno strano ma che è giulaccio io te l'ho fatto l'accento sono mica petro ma le giulacce che è pericolo la mia l'ho fatto la mia è la mia la mia la mia è l'ho fatto non puoi mangiare non puoi mangiare non puoi mangiare più dei secondi buono caccio l'altro la vede la vede e Mariano ma c'è fermo la Mariano e' mariano non puoi non puoi mangiare vettelo bravo che vuoi fare? non puoi fare non puoi mangiare non puoi mangiare non puoi mangiare bravo saluto ma puoi mangiare vai in Gossimo! non ci vieni mangio mangio Mario basti con un po' ora si è ingapricciato eh non ci vieni non ci vieni non ci vieni non ti vieni non ti vieni non ti vieni non ti vieni che vieni ma perché sposti non ti vieni ma questo che ha fatto la partita è calma se stanno girando non ci vieni ma questo si è ma qui 3 metri di euro un po' zang non ci vieni non ci vieni ok non ci vieni ma come si fa ma perché hai come da non ci vieni la devi lasciare qua la saltezza è qua quindi dovete bene vai ora non ci vieni ti va non ci vieni non ci vieni non ci vieni ma che ci vieni si non ci vieni No, 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 no non nasce la porta, nasce, nasce nasce, nasce che fate? non si vede in linea c'è il ricordo no, non si vede Pietro, già sei chiamato che fate? corre come stai chiamando? non c'è il ricordo non c'è il ricordo non c'è il ricordo non c'è il ricordo perché non c'è il ricordo non c'è il ricordo non c'è il ricordo secondo me è stato scavato adattano giudini e poi dopo non c'è il ricordo ma non c'è il ricordo 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 ma non c'è il ricordo è giò Che danno ha detto? Uno tra le danne e tre guardi. Bravo Cosico! Va bene! Dovete far pareggiare la partita, se no non è andato vivo. Come ho fatto per questa becchiera cazzo? Mi ho cognato il lato! Ma la pachina di Vittorio! Ma che hai? Bravo Corri! Troppo appiccione il carone! No! 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 Vittorio! Armario! Vittorio! 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 io ma ne ce lo direi tu da te, non mi fai trattato non mi fai di aprire guarda mezzo guarda mezzo di te, te e mezzo te e mezzo di te eh? te e mezzo di te si, non ha dato a scuola guarda, io e te e mezzo mettiamelo qua andi a mezzo ma adesso dite signor Atenco che flitta siete flitta tu? bella Cosimo 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 che bella vede vedi un dottor pingin vedi un dottor pingin vedi un dottor pingin vedi un dottor pingin vedi un dottor vall reflet vedi elais no ma nonna questo è appaggiatura non mi piace, non mi piace non mi piace, non mi piace non mi piace vede vitto vish ch entr'ong basso chi ci resiste Grazie a tutti 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 Signore posso Grazie a tutti 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 Bellissimo Grazie a tutti 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 Buon appetito! Pietro! Pietro! Uuuu! Palma di una volta! E' un po' il cuore! Uuuu! 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 E' un po' il mio! E' un po' il mio! E' un po' il mio! Ah, sta raggiacciato! Uuuu! Uuuu! Chi è? Uuuu! 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 Fammolo punto! Uuuu! 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 Ma va 3.0! 5 minuti! 5 minuti! Uuuu! 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 Ma che stai neanche cosa che se li vuoi se non ci stanno? No! Uuuu! 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 è una palla che ogni 9 minuti renda bene ogni 9 minuti renda bene lo vesce è un po' 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 ma cambiamo è un po' è un po' è un po' questo è un po' è un po' ok ok fai cosi vai ma fate il pretto capitano come? ah dai signor ecco ma non è un desiderato ma mio uff che la puttana che la puttana si riesca a fare da voi non c'è scuola bravo vinciò con il primo ma è un pallone non c'è non c'è ma è un pallone non c'è il primo due di vinci c'è l'uomo è un pallone c'è c'è il primo ma che cazzo ma il recupero non ha dato è passato lui ma io sono passato l'indo o come da 53 49 ho vinto ciao in il attacca in attacca l'occhio che l'occhio sp l'occhio in l'occhio l'occhio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti